Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. La vicenda legata all'intervento chirurgico addominale subito da Kimmerozen il 17 gennaio ha catturato notevole attenzione mediatica. Le informazioni limitate e le dichiarazioni ufficiali elusive stanno alimentando il mistero. Nonostante sia stata esclusa la presenza di un tumore maligno, le ragioni dell'intervento rimangono oscure, costringendo Kate a rinviare i suoi impegni fino a Pasqua. Questo ha suscitato interesse sia tra i seguaci della famiglia reale che tra i media britannici e americani, soprattutto a causa della segretezza che avvolge l'operazione. Tessa Dunlop, storica specializzata in famiglie monarchiche, ha sollevato dubbi in un articolo per People, evidenziando gli aspetti poco chiari della vicenda. Sebbene sia comprensibile la necessità di proteggere la vita privata di Kate Merlton, l'approccio alla gestione delle informazioni sembra eccessivamente controllato per evitare fughe di notizie. Dunlop ha sottolineato che solo il principe Carlo e Camilla erano a conoscenza dell'intervento, escludendo persino i confidenti più stretti di Kate. Il ricovero e l'intervento hanno sorpreso molti, compresi gli amici intimi di Kate, che non erano a conoscenza degli sviluppi. La sua ultima apparizione pubblica è stata alla Messa di Natale a Sandringham il 25 dicembre, dove sembrava in buona salute, sollevando interrogativi su eventuali sviluppi successivi durante le vacanze ad Anne-Marie. Resta da chiedersi cosa sia accaduto dopo quel momento. Resta da chiedersi